Si conclusa ieri 13 ottobre la maratona dei servizi bibliotecari con apertura non stop dal 7 al 13 ottobre della Biblioteca regionale Giuseppe Capograssi dell'Agenzia per la promozione culturale di Sulmona caratterizzata da una serie di iniziative importanti quali incontri culturali, proiezioni cinematografiche, musica, letture ad altavoce, salotti letterali, convegni e tante altre occasioni d'incontro. Le attività sono state organizzate in relazione alle diverse esigenze culturali degli utenti di ogni fascia d'età, dai bambini della scuola primaria, agli studenti delle scuole superiori, del liceo classico video, del psicopedagogico vico, dell'artistico mazzara, ai cittadini cultori della buona musica, delle buone letture ad altavoce di un buon film che con la loro presenza hanno attestato il gradimento e richiesto il ripetersi dell'iniziativa. È stata anche l'occasione per riflettere sul futuro delle biblioteche pubbliche attraverso l'adeguamento dei servizi bibliotecari alle nuove esigenze delle collettività ed è stata lanciata nell'APC di Sulmona la proposta di una nuova legge regionale sulle biblioteche pubbliche abruzzesi subito accettata dai rappresentanti della regione Abruzzo sulla quale lavoreranno i relatori intervenuti al convegno. La biblioteca, hanno detto alcuni rappresentanti, deve evolversi in un modello di luogo culturale e sociale, deve crescere come dimensione di convivenza, di sicurezza, di gratuità e di convergenza di servizi e deve sapersi qualificare, in modo forte e autorevole, come uno spazio non sostituibile per l'esercizio di fondamentali diritti della cittadinanza, quali l'accesso democratico e pluralista alle informazioni. Grazie Grazie Grazie